Domani il funerale di Cristian Brusco, il 47enne residente a Sestere Levanta è morto domenica scorsa mentre era impegnato in una gran fondo di ciclismo a Pistoia. La funzione religiosa si svolgerà a Castiglione Chiavarese nella parrocchia della frazione di Campegli presso il santuario di Sant'Elena alle ore 10. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di San Pietro di Frascati. Sarà celebrato domani mattina alle 10 il funerale di Cristian Brusco, il 47enne residente a Sestere Levanta è ciclo amatore che domenica partecipando in provincia di Pistoia alla Gran Fondo è morto dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ed è caduto a terra probabilmente a causa di una crisi cardiocircolatoria mentre stava pedalando tra San Marcello e Piteglio sulle montagne pistoiesi. A nulla sono i serviti soccorsi prestati prima dagli altri concorrenti e poi dai sanitari del 118. La funzione religiosa di domani mattina si svolgerà a Castiglione Chiavarese nella parrocchia della frazione di Campegli presso il santuario di Sant'Elena. Brusco era titolare di una ditta di autoricambi in via Dante Sedini a Sestri. La sua salma sarà tumolata nel cimitero di San Pietro di Frascati, sempre nel comune di Castiglione. Sarà il ballottaggio di domenica a stabilire chi sarà il prossimo sindaco di Chiavari. Il testa a testa sarà tra Federico Messuti che rappresenta la continuità della maggioranza uscente e Mirko Bettoli, candidato del centrosinistra, che ha già fatto l'impresa raggiungendo il secondo turno eliminando esponenti più noti della politica chiavarese come il candidato del centrodestra unito Giovanni Giardini o la centrista Silvia Garibaldi. Nessun apparentamento ufficiale in vista della tornata elettorale, ma Messuti è appoggiato da quattro liste civiche e un bottino di voti del primo turno del 48,5% ha incassato i favori del presidente di Regione Ligore Giovanni Totti e della Lega. A Chiavari ora il centrodestra e le forze civiche da sempre vicine alle esperienze regionali lavorino unite per il voto di domenica, ha scritto Totti su Twitter. Mi auguro che i chiavaresi scelgono la continuità e votino chi ha dimostrato di saper amministrare Chiavari con competenza, impegno e passione. Per noi parlano i fatti, dice Federico Messuti. Bettoli, appoggiato dal centrosinistro Unito e da tre liste, tra cui il Partito Democratico, riparte dal 16,9%, ottenuto anche se per lui domenica è una partita nuova che cercherà di vincere intercettando i voti di chi non si è recato a Leone. L'affluenza al primo turno infatti è stata del 48%. Usciamo dal primo turno di elezioni e arriviamo al balottaggio ripartendo da 1-0 a 0, con una proposta programmatica forte in grado di parlare in maniera trasparente a tutti gli elettori chiavaresi a partire da chi non ha votato o ha votato proposte alternative e il commento di Bettoli. Dunque a Chiavari si vota domenica dalle 7 alle 23. La società Porto Turistico Internazionale di Rapallo SPA ha comunicato che si sono concluse le votazioni dei creditori in merito alla proposta di concordato presentato il 31 dicembre del 2021 con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei creditori. La maggioranza è stata raggiunta, si legge in una nota di Porto Turistico Internazionale di Rapallo SPA, anche in ciascuna delle tre classi in cui erano stati divisi i creditori. Creditori favorevoli in prima classe 76,73%, favorevoli in seconda classe 60,31%, favorevoli in terza classe 78,45%. La maggioranza assoluta degli aderenti è stata dunque conseguita in tutte e tre le classi di creditori. La proposta di concordato è stata approvata dai creditori con ampia maggioranza quindi. La società, conclude la nota, ringrazia i creditori aderenti per la fiducia del nuovo corso di gestione della Porto Turistico Internazionale di Rapallo e nel percorso di risanamento avviato. La società confida peraltro che i creditori che hanno manifestato voto contrario possano nei prossimi mesi apprezzare il grande lavoro svolto anche per garantire in tempi brevi l'avvio del nuovo Porto Turistico in un contesto di totale rinnovazione anche sotto il profilo della gestione. Vigilia con polemica per il convegno dei giovani industriali in programma Rapallo domani e dopodomani, vale a dire venerdì 24 e sabato 25 giugno. Andrea Carannante, esponente locale del Partito Comunista dei Lavoratori e storico antagonista del convegno, mette l'accento sui soldi che il Comune di Rapallo ha stanziato per il servizio a navetta dell'evento. Con il termine al numero 556 il Comune di Rapallo finanzia il servizio di trasporto ai giovani di Confindustria, una somma di circa 6.000 euro per questi signori che evidentemente hanno bisogno di essere finanziati dai cittadini per raggiungere l'hotel che li ospiterà, dice Carannante. In un momento di crisi il Comune di Rapallo dirotta denaro pubblico per una chiamessa che sembra quasi una provocazione per chi lavora e vive in questa città. Dal Comune nessuna risposta alla provocazione di Carannante ma un elogio alla mandata manifestazione. Il convegno dei giovani industriali è un evento importante che dà lustro alla città, risponde il sindaco Carlo Bagnasco. A Rapallo sono attesi i più importanti leader per parlare del futuro dell'Italia e dell'Europa. L'Isare ha solo pochi giorni fa una polemica iniscatta da Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, a seguito dell'uscita della notizia del fatto che Luca Bizzarri, attore comico genovese, abbia scelto di prestare la sua voce per un podcast di autostrade. La donna si era detta indignata poiché l'attore, soprattutto da genovese, si era sentito profondamente colpito e commosso dalla tragedia del Ponte Morandi e quindi non ha ritenuto giusto il fatto che lui decidesse di prestare proprio la sua voce per un podcast di autostrade. E' arrivata adesso la risposta dell'attore genovese. Questo è il progetto a cui ho collaborato. Non ci sono Benetton, c'è il WWF, l'UNESCO, il Touring Club, c'è Slow Food e l'Aspi, che è da un anno un'azienda statale, infatti lo ha presentato un ministro. Questa è stata la sua risposta sul suo profilo social, su Facebook. Un progetto, ha spiegato Luca Bizzarri, al quale non appartengono i Benetton. L'attore non intende polemizzare né con il comitato né con Possetti, ma se mai con i partecipanti all'ondata di indiezione che si è scatenata sui social. Difatti, dopo l'indignazione nata da Egli e Possetti, sono stati molti coloro che si sono associati contro Luca Bizzarri. Ha ricordato l'attore, postando uno degli articoli che raccontano l'iniziativa, che Benetton non ne fa parte e che invece insieme ad Aspi, che ormai è un'azienda di Stato, ci sono dei partner prestigiosi. Questa è stata la risposta dell'attore genovese Luca Bizzarri. Una festa patronale, un festival sull'educazione e la salute sessuale, dovranno convivere nel prossimo fine settimana nella frazione di San Pietro di Novella a Rapallo. Il paroco, Don Beppe Culoma, contento per aver ritrovato i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, tra processione, messe, stand gastronomici e lotteria, dovrà fare i conti con i ragazzi del gruppo Nassa Rapallo, che hanno ideato la prima edizione del Sextival, festival sull'educazione sessuale. L'appuntamento per sabato 25 e domenica 26 giugno è in un'area vicino alla parrocchia. Don Beppe si dimostra tollerante, ma ne fa una questione di ordine pubblico. «Questa iniziativa occuperà gli spazi che solitamente erano destinati a parcheggio in occasione della festa», spiega il prete. «Non avendogli a disposizione sarà un problema di come e dove saranno parcheggiati i mezzi. Ne ho parlato con i carabinieri e ho chiesto spiegazioni in comune. Mi hanno disposto che, essendo un evento privato, non c'era modo di intervenire. Se avessero organizzato questa manifestazione in un altro fine settimana non ci sarebbero stati problemi». «È stata una svista», rispondono invece gli organizzatori del Sextival. «Ci dispiace, ma credo che non ci saranno problemi, abbiamo target diversi». Restano i due programmi che, messi in parallelo, suonano quanto meno curiosi. Sabato 25 alla messa, l'apertura degli stendi gastronomici e alla serata danzante in onore di San Pietro. Il Sextival risponde con lavoratori incontri sul genere, sui diritti e delle famiglie occhobalene con la testimonianza del trans Rossella Bianchi, per citare alcuni appuntamenti del ricco calendario. Domenica le messe saranno due, mentre di fronte si parlerà di aborto e di diritto al piacere sessuale». «È stato validato e approvato il progetto definitivo di riqualificazione edilizia del complesso Ex Maestre Pie, edificio situato in via Gerola Mosperoni a Recco e già nella prima settimana di luglio sarà pubblicata la gara per l'appalto integrato, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza Next Generation European Union. La realizzazione dell'opera, informa la città metropolitana di Genova, in una nota, si pone come obiettivo quello di adeguare l'immobile in passato utilizzato dall'Istituto Maestre Pie per ospitare un nuovo istituto con indirizzo enogastronomico. La progettazione prevede la ristrutturazione dell'edificio scolastico dotandolo di 11 aule di spazi laboratoriali, cucine e sale locali per il personale docente e tecnico e di una nuova palestra da realizzare in volume semi-interrato, oltre alla generale sistemazione dell'area di pregio paesaggistico, lavori che avranno una durata di due anni e mezzo e a cui seguiranno le operazioni di collaudo. Oggi pomeriggio è andata a sbattere contro il Galderail un'automobile nei pressi del Passo del Bocco a Mezzanego. A bordo della macchina c'erano due anziani, una donna e un uomo, entrambi portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'automedica del 118 Tiguglio, insieme alla Croce Verde di Carasco e alla Croce Rossa di Cogorno. Siamo con la bibliotecaria ufficiale Maria Simonella che gestiva i libri antichi. Fino ad oggi era solo lei a possedere le chiavi per questo patrimonio e come accompagnava chi veniva a chiedere informazioni? Venivano solitamente persone molto preparate, studiosi, che quindi facevano richieste molto precise, sapevano cosa volevano consultare e quindi noi ben volentieri mettevamo a disposizione i nostri documenti. Questo chiaramente poteva essere anche difficile a volte per la delicatezza dei documenti e non sempre le persone riuscivano a venire direttamente a consultarli. Quindi ci siamo posti veramente il problema di come fare perché non solo gli studiosi arrivassero al documento, ma il documento arrivasse agli studiosi. In questo diciamo che la digitalizzazione è sicuramente un'arma vincente perché permette la visibilità del documento a 360 gradi in tutto il mondo e permette anche di preservare molto il documento che meno viene maneggiato e più si conserverà nel tempo. Posso chiedere anche a lei qual è il gioiello più prezioso che è conservato all'interno di questa biblioteca? Non mi sento in grado di fare una valutazione perché sono tutti documenti molto importanti. Chiaramente ci sono quelli che a vedersi sembrano più belli perché sono più colorati, perché sono illustrati, possiamo parlare dei corali miniati piuttosto che degli atlanti acquarellati del Settecento. Però per uno studioso ogni documento che sia di suo interesse è preziosissimo. Qualcosa di rosa non c'è? No. Che lettera romana? Ma ribaldi? Ma può darsi, può darsi. Magari quando verrà tutto digitalizzato usciranno anche queste chicche. Aspettiamo, aspettiamo. Grazie comunque per tutto il lavoro che avete fatto. Mi immagino la fatica e che gran cervellone avete. Il lavoro è stato fatto, è comunque una minima parte rispetto a tutto quello che ci aspetta. Nel momento in cui riuscissimo a andare avanti in questo progetto, oltre alle 29.000 pagine che sono già state digitalizzate, ce ne aspettano oltre 4 milioni. Quindi noi siamo pronti, speriamo che arrivino i mezzi e le forze per andare avanti. Perché la società economica di Chiavari è una miniera d'oro. Assolutamente, uno scrigno che va scoperto pezzo per pezzo. Siamo saliti nella biblioteca, quella col cartaceo, ma abbiamo il professor Dotti che di storia di Chiavari se ne intende e del castello che rappresenta Chiavari è uno dei principali divulgatori di quello che è la storia di Chiavari. Qua incontriamo però, e le ho chiesto subito, chi è questo personaggio? Il custode del nostro archivio abbiamo messo questo gesso realizzato da Guido Galletti nel 1952 di Giovanni Descalzo. Giovanni Descalzo è sì un figlio di Sesti Levante, ma un figlio un po' di tutta la Liguria. È bello per noi conservare questo busto perché di lui conserviamo, grazie alla generosità della figlia, anche tutto il suo archivio e il suo epistolario. Era un poeta? Sì, era una persona semplice, era una persona del popolo ed era, diciamo, uno scrittore operaio che si è studiato tutta la vita alla possibilità di dedicarsi alla cultura. Sullo lungomare di Sesti Levante c'è il bronzo realizzato da questo gesso. Sappiamo che qua c'è un altro personaggio particolare, questo Sam Benelli che ha un palazzo tutto strano che ha voluto costruire lui perché si occupava di teatro lirico e andando verso Rapallo incontriamo il palazzo ma qua c'è qualcosa di più conservato nelle vetrine. Sam Benelli quando ha sentito che si avvicinava alla morte ha pensato, era ormai in età avanzata, ha pensato a chi lasciare i suoi manoscritti e la sua biblioteca e ha scelto la società economica. Tra tanti manoscritti soltanto quello della scena delle beffe è stato destinato alla città di Prato, la famosa scena delle beffe dove tutti ricordiamo Amedeo Nazari che diceva chi non beve con me peste lo colga, perché Amedeo Nazari aveva un bel accento. E quindi abbiamo tutto l'archivio di Sam Benelli e i suoi libri. Qua dentro c'è tanta Elena Bono anche. Abbiamo tutto l'archivio dell'Elena Bono e l'epistolario di Elena Bono, soprattutto lettere ricevute da tutto il mondo, da persone celebri. Comunque l'archivio della società economica racchiude oltre queste testimonianze letterarie, racchiude testimonianze storiche, testimonianze di tutti i tipi. Soltanto l'archivio della famiglia Rivarola e di altre famiglie chiavaresi sono un tesoro per la storia di Chiavari e del suo comprensorio. Della famiglia Rocca, del famoso palazzo con tanto di giardino, abbiamo qualcosa qua? Su questo non sono informato, quindi mi premo... Strano, allora non lo sa ancora nessuno, andanno avanti le ricerche. No, sì, sì. Grazie professore. Cos'altro vuole sottolineare? Perché qua tutto, hanno detto che è importante ed è l'oro di Chiavari. L'importante di questo procedimento di digitalizzazione è proprio il fatto di accedere ai documenti senza toccarli. Io stesso a volte toccando dei vecchi documenti mi sono sentito quasi in colpa all'idea di poterli qua stare. Sono carte a volte delicatissime, estremamente sottili e quindi la digitalizzazione permetterà di consultarli, di studiarli, di ingrandirli senza deteriorarli. Questo è importante. L'ingegnere Castagnini è la persona giusta? L'ingegnere Castagnini ha aderito a questa richiesta della Regione Liguria ed effettivamente ha avverato un progetto che adesso si verrà completato grazie ai fondi del PNRR. Lei pensi che fino adesso sono stati scannerizzati, digitalizzati circa 29 mila e 290 mila. No, 29 mila. Lei pensi che si calcola che dovranno essere in tutto digitalizzati 4 milioni e mezzo di pagine. Chissà cosa salterà fuori. Per il momento c'è solo un assaggio e poi sentite la campana di San Giovanni. Adesso vogliamo sapere se andando a casa possiamo andare su Google e digitare società economica, biblioteca di Chiavari e arriviamo al dunque sui volumi, su Napoleone, eccetera. È semplice ma non così semplice. Dovete fare una telefonata alla biblioteca oppure venire direttamente in biblioteca. Vi verranno fornite le credenziali per accedere alla piattaforma dove è possibile visionare questi documenti. Un artista argentino con chiare origini italiane, Pablo Damian Cristi, sta creando una cosa eccezionale. Parliamo del Terzo Cristo Giustiniani, tutto ciò a Moneglia. C'è già stato l'inizio di questo lavoro ma ci sarà anche l'occasione per il pubblico di assistere dal vivo alla creazione di un'opera d'arte. Intanto di cosa si tratta? Ok, si tratta di Il Terzo Cristo di una serie che i primi due Cristi l'ha fatto Michelangelo 500 anni fa. È un'istoria un po' particolare perché il primo Cristo Michelangelo quando era avanzato nella realizzazione trova una vena nera nel viso e perciò lascia quel blocco lì e comincia a fare un secondo. Un secondo, il quale neanche dopo alla fine è convinto della realizzazione di questo secondo, voleva fare un terzo. Ma il committente in quel momento aveva bisogno di quella scultura, allora non lo hanno lasciato. Un erede della famiglia Giustiniani, Jerome Lugumunili Giustiniani, prende questa parte della storia, reinterpreta un po' questi due Cristi e chiede a me il Terzo per fare la Trinità. Allora sono in quel onore e mi intenzione, anche con la intenzione di Jerome, di portarlo a Monelia per lavorarlo in un posto molto al suo cuore. Dopo Monelia è stato molto disponibile dal comune, anche a Maria Grazia, che è una gioia averla in questo qua perché si soluziona tante cose, la famiglia Volo che sarà dove lavorerò, in una vecchia stala della famiglia. Il marmo arriva da Carrara, chiaramente, blocchi di marmo che verranno poi scolpiti da lei. C'è già stato l'inizio di questo lavoro davanti al sindaco di Monelia e venerdì 24, venerdì 24 giugno alle ore 17.30, quindi con il pubblico presente, il pubblico che potrà assistere qua all'ex stalla dei Bollo di sotto a Villa Franca, si passa dall'entrata del castello, potrà appunto assistere a questa creazione. Ci vorrà un po' di tempo, immagino. Sì, sì, ci vuole tempo. È una scultura che mi porterà un anno più o meno. Gran parte del tempo lavorerò a Monelia e dopo girare con il Cristo, per esempio l'Argentina, prima della finitura saranno due mesi all'Argentina a lavorare nella mia città e ci sono in mezzo altri punti di interesse da portare alla scultura. Come hai detto bene, venerdì alle 17.30 sì c'è l'apertura al pubblico perché ora non si può entrare in questo momento, però da venerdì in poi ci sarà l'apertura al pubblico anche con la benedizione di Don Stefano e si comincia il via, quello è l'ufficiale per Monelia. Intanto l'artista, proprio Damian Cristi, ha chiare origini italiane, siamo dal porticato Brignardello e Brignardello riguarda anche la sua di famiglia. Ma ecco, vogliamo anche ricordare che per chi assisterà appunto a questo vernissaggio con aperitivo perché lui infatti sarà al lavoro ma la gente potrà appunto assistere anche degustando qualcosa, che potranno portarsi a casa qualcosa. Certo, certo, potranno portarsi a casa un pezzo del marmo che avrà un codice QR che si riferirà a un collegamento tale che il Cristo viaggerà perché sarà un Cristo in cammino e loro sapranno sempre dove questo Cristo è. Quindi farà parte proprio della storia di Monelia e di loro. Quindi questo è un evento particolare e molto importante. Io veramente invito, non soltanto il venerdì 24, ma negli orari che stabilirà Pablo, di venire, di parlare con lui, di conoscerlo veramente perché un evento del genere soprattutto per i giovani, per i ragazzini, è la storia anche del paese. È una storia che si vive, che si vivrà sulla pelle e lui ha bisogno anche di sentire che le persone di Monelia, è stato accolto dalle persone di Monelia, che gli sono vicine anche perché un qualche cosa che si crea, che si forma, ha bisogno anche di tanto sentimento e di cuore e penso che Pablo ha bisogno anche di questo.